Il settore della preparazione per riutilizzo e riciclo dei tessuti scartati è sull'orlo del collasso in tutta Europa. In particolare, secondo la Confederazione Europea dell'Industria del riciclo, ci sono allarmi urgenti in Olanda, Germania e Regno Unito. Senza un intervento immediato questa crisi si aggraverà, causando danni economici ed ambientali irreversibili. Le cause sarebbero l'aumento dei costi, la diminuzione delle vendite a causa della concorrenza forte e le lacune legislative.